Oggi, parliamo delle stazioni di Resana e Trebaseleghe. Se con gli aumenti e i prolungamenti su questa tratta è stata fatta un'ottima cosa, dobbiamo far notare che dal 2015 i treni fermanti nei giorni festivi nelle stazioni di Resana e Trebaseleghe, sono scesi drasticamente, sino ad arrivare a due. Fino al 2015 se ne contava una decina. Sollecitiamo la Regione Veneto a riconsiderare queste fermate. Soprattutto, Trebaseleghe, di recente inaugurazione, non merita una così grande sottovalutazione del servizio nei giorni festivi.